Devo dire che mi ha colpito molto, mi è piaciuto molto il film, ho voluto vederlo proprio stasera e commentarlo a caldo. Ci sono alcuni aspetti che secondo me sono centrali per la riflessione post-umanista, tenendo presente che il post-umanismo non è il transumanismo, perché nel film si fa anche riferimento a questa idea transumanista dell'uscire dal corpo, di in qualche modo diventare delle entità virtuali. Allora, ci sono alcuni punti che secondo me meritano la nostra attenzione. Il primo è l'idea, la messa in discussione è una visione cartesiana dell'avere un corpo. Noi parliamo dell'essere un corpo. Cosa significa essere un corpo? E quindi cosa significa avere una mente diffusa, un sentire diffuso, un'ontologia diffusa? Penso che questo sia uno degli aspetti più importanti. Noi in realtà sentiamo attraverso tutti i nostri organi, non solo attraverso la mente. E quindi il nostro comportamento cambia a seconda di quello che mangiamo, a seconda della luce che arriva al nostro corpo, ai ritmi biologici, al sistema endocrino. Quindi noi siamo un corpo e effettivamente questo film ci mostra la corporeità. Ci mette in primo piano questo concetto della corporeità, di un'ontologia diffusa, non di un'ontologia, diciamo, reclusa, come può essere quella di Cartesi. Il secondo aspetto è, per me, ancora più interessante. è l'idea che ogni ente, nell'esprimersi, dice di sé, ma dice anche di me. Cioè nel senso di parlare di una sorta di ontologia relazionale. Cioè io prendo consapevolezza attraverso lo sguardo dell'altro. Quindi non c'è solo il mio sguardo, ma c'è anche lo sguardo dell'altro che dà consapevolezza e dà sostanza a quello che io sono. E questo è importante dal mio punto di vista, perché noi abbiamo invece una tradizione di ontologia basata sulla solipsia, sulla riflessione, no? Sul concetto del soggetto che riflette con se stesso e quindi trasforma il mondo in uno specchio e si guarda e quindi dichiara la sua presenza nel momento in cui può pensare, sa pensare e sa vedersi. Qui invece abbiamo una presenza che non è una riflessione, ma è una congiunzione, è una vera e propria copula. E dal mio punto di vista nel film ci sono un'enorme quantità di copule, un'enorme quantità di convergenze. Cioè il film è tappezzato di momenti di contatto e di emergenza attraverso il contatto, e di emergenza attraverso lo svanire dell'altro. In questo senso il punto fondamentale è che ogni ente che si esprime non è più solo un fenomeno, ma il lento è un'epifania. Cioè l'ente che si esprime non sta semplicemente manifestando se stesso, ma sta anche annunciando qualche cosa, sta dicendone qualche cosa. Questa mente diffusa che quindi circola, questo non particolato, ma questo flusso, come se la vita fosse una sorta di onda che ogni tanto si presenta in maniera confuscolare, ma che più delle volte ha una dimensione a flusso, secondo me è, non so dire, io non lo definirei erenismo, non lo definirei neanche panteismo, ma è una sorta di panismo, cioè di presenza diffusa, di sentire diffuso. E allora ecco che anche l'essere umano è tutto ciò che noi normalmente attribuiamo all'essere umano, come la tecnologia, come la scrittura, il linguaggio, la danza. Cioè se ci pensiamo, quella rituale delle alci che si scontrano, è una danza, è assolutamente una danza. E non può che parlarci della tendenza dell'essere umano a imitare, a costruire coreograficamente questa danza. E nello stesso tempo gli uccelli non ci hanno insegnato che si può, non ci hanno insegnato come volare, ci hanno insegnato che si può volare. Cioè ci hanno aperto una dimensione esistenziale, cioè quindi l'osservare gli uccelli non è più osservare un fenomeno a cui possiamo attribuire delle caratteristiche estetiche, belle, è bello, è brutto, è piacevole, è sublime. È qualcosa di più, perché in quel preciso momento cambia la mia proiezione esistenziale, modifica profondamente la mia dimensione esistenziale. Cioè nel momento in cui incontro quest'alterità non sono più quello che ero prima. E quindi io mi trasformo continuamente sull'entità metamorfica nel rapporto con il mondo vivente. Essere animale, essere animale, diventare animale ma essere animale. Noi siamo abituati a pensare all'animalità come un termine controlaterale all'essere umano. Cioè l'animale è ciò che non è umano. Continuiamo a dire che l'uomo deriva dagli animali, si è emancipato dagli animali. Ma in realtà l'essere umano non è altro che una declinazione dell'essere animale. E quindi la convergenza è una consustanzialità che si presenta in declinazioni diverse ma che ha una consustanzialità. E in questa consustanzialità io vedo il film questa ammissione, questa consapevolezza di consustanzialità che diventa poetica. Tutti i fenomeni naturali assumono l'aspetto di epidermi, di pelle. Cioè da un punto di vista sia sonoro che visivo. Sembrano organi sensoriali. Sembra l'acqua che cade, l'acqua che scorre, la cute di quel bisonte, gli alberi che scorrono. Diventano un grande paesaggio epidermico, una sorta di somato landscape che avvolge tutto. E quindi veramente mi è piaciuto tantissimo il film. Grazie. Volevo dirvi che per fortuna ci sono tante richieste di spettatori per stasera quindi abbiamo inserito una nuova proiezione alle 10 quindi abbiamo un tempo fino alle 10 circa per parlare. Adesso chiedo a Peter Metler subito una replica, una considerazione a Canto. Poi se ci sono degli interventi da parte vostra, fate segno. Sono quattro giorni che siamo in viaggio tra Gorizia, Nova Gorizia o Giudine. Siamo a metà del viaggio del premio Maggio di Navisione e tutte le volte c'erano sempre domande che magari sono rimaste anche insoddisfatte perché gli spettatori avevano sempre voglia di fare domande, i film di Peter hanno sempre suscitato tanti stimoli, tante interrogative, quindi vi prego di terminare. E quindi adesso passerei la parola a Peter e la parola a Peter e il mio domande. Well, thank you for that philosopher's speech that was very... I can't speak like you. That's why I'm rimmedell. I mean, you said many things that in one way or another we thought of. Obviously, the three of us, it's a film made by three people. We were Emma, Emma Davie, the co-director, and myself. Our main ambition, I think, was to take some of the ideas, which are very word-oriented, from David, and create an experience of those ideas by using, you know, tactile, sensuous, you know, tools of cinema, you know, seeing and hearing. So the big challenge was to create an experience that is actually like being in a forest, that's addressing how we look at the forest, how we think about the forest, but obviously embracing the paradox that you're sitting in a movie theater. and this is, I think that the paradox is in the center of the film. Also, when Emma asks at the very beginning, you know, what is this thing we call nature? and why do we call that world out there, that organic world, something different than ourselves? And I think what David is underlying is that the alphabet, the written word, has helped to distance ourselves from that reality because we're processing it through our minds and I think what Emma and I were adding to that was the technology, was how the technology becomes an interface with experience, with reality. No, I'm sorry. No, I'm sorry. Dunque, grazie per le sue parole. Io non riesco a esprimermi come lei e per questo dirigo il film. Diciamo che lei ha parlato di molte delle cose di cui abbiamo pensato noi tre, io la colegista Emma David e Emma il filosofo. E diciamo che l'ambizione è apprendere queste idee di David ed esprimerle in modo che attraverso i sensi del cinema, percino gli strumenti visuali, uditivi del cinema e quindi la sfida era far sperimentare al pubblico cos'era veramente essere in una foresta pur all'interno del paradosso che voi siete di fatto all'interno di un cinema. E quindi questo paradosso io credo che sia centrale all'interno del film ed è evidente all'inizio del film quando Emma dice cos'è la natura e perché noi diciamo che la natura è diversa da noi. Ecco, David dice anche che l'alfabeto e l'alfabeto la scrittura ci ha permesso di distanziarci dalla natura perché si tratta di un processo che lavoriamo mentalmente e Emma aggiunge che di fatto è la tecnologia che funziona oggi con un'interfazio un'interfazio ulteriore che ci mette tra noi e la natura nel poster ci sono degli interventi io volevo ritornare al filosofo penso che c'è anche l'aspetto della tecnologia adesso accendiamo il fatto che siamo stati qui a vedere la natura sullo schermo e nel film si parla della tecnologia anche di come ci portiamo la tecnologia quando andiamo nella natura uno dei temi che c'è nel film sono i turisti nel turismo dentro il parco queste persone che con queste macchine enormi vanno nel parco a vedere da vicino gli alci i bisonti i fiumi le foreste e però portarci questa tecnologia come non so lo smartphone la macchina fotografica la videocamera o andare in auto fino al limite dove si può arrivare con l'auto altera il nostro rapporto con la natura e quindi volevo sentire una riflessione su questo penso io penso che per tanti versi il nostro rapporto con la tecnologia assomiglio un po' a un bambino che viene portato in una park che quindi si trova di fronte a un calendoscopio di luci un calendoscopio di immagini che in qualche modo lo ipnotizzano e lo allontanano da tutto ciò che è un rapporto con il mondo esterno penso che effettivamente la nostra storia sia stata una storia di un dei loro passi di chiusura in noi stessi e questo si vede chiaramente di fronte di fronte a quello che è oggi il più grande problema che abbiamo davanti a noi la distruzione di questo pianeta una distruzione che dovrebbe campeggiare in tutte le pagine dei giornali dovrebbe essere la prima pagina di tutti i giornali dovrebbe essere il titolo di testa di tutti i giornali dovrebbe essere il primo punto dell'agenda politica di qualunque governo e invece siamo chiusi dentro i nostri cellulari siamo chiusi dentro questa idea in fondo di riuscire a chiuderci dentro una scatola magica e rimanere imprigionati lì penso che sia il grosso problema siano tutte quelle ideologie e tutte quelle comunque culture che in qualche modo assecondano questo io non saprei dire ma penso che avremmo bisogno di una nuova di una nuova cultura di un grande passo una grande trasformazione culturale perché quello che vedo è che invece non solo il capitalismo anche ovviamente il capitalismo ma tanti tanti aspetti culturali mantengono ci mantengono dentro questa idea di specchio questo antropocentrismo che non ci permette assolutamente di mettere in discussione quello che ci sta capitando quindi se nel quattrocento l'umanesimo è stata una grande conquista e quindi la visione dell'uomo al centro in quel momento è stata una grande conquista oggi dal mio punto di vista ancor più che la tecnologia in sé è l'antropocentrismo il grande nemico dell'essere umano non solo del pianeta ma proprio dell'essere umano e l'antropocentrismo è quello che ci fa guardare la tecnologia non come un ausilio per aumentare il nostro rapporto col mondo ma come un'interfaccia che ci allontana dal mondo che ci fa che ci fa che ci fa un'interfaccia 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 so there's this paradox that we live in now you know we can't go back and I find I have this question throughout my filmmaking throughout my creative work is it you know can you really use technology this is a question to you about your opinion dunque quindi parliamo di questo paradosso non si può tornare indietro quindi è una domanda che sono molto spesso nella mia attività di filmografo e la domanda è si può usare la tecnologia in questo senso dal mio punto di vista si dal mio punto di vista il problema non è la tecnologia ma nel nostro modo di vedere la tecnologia è un nostro modo non di usarla ma è proprio di vedere la tecnologia noi abbiamo una visione della tecnologia che è la stessa identica di quella che aveva il picco della mirandola o Marsilio Ficino o insomma è ancora una visione umanista della tecnologia e questa visione inevitabilmente trasforma la tecnologia in una sorta di potenziatore e di specchio di quelle che sono le nostre istanze non una tecnologia che ci aiuti ad avvicinarci ancora di più al mondo vivente perché non penso che in sé la evoluzione scientifica sia qualcosa di problematico non è assolutamente è la visione antropocentrica della tecnoscienza che crea il problema quindi pensate che il cinema per esempio ha il potenzialo anche se ci distanziamo dalla natura ha anche il potenzialo di integrare nella natura, le forze naturali? è quello che hai fatto quindi la domanda è se insomma il cinema può anche se ci distanzia dalla natura integrarci, avvicinarci al tempo stesso sì, è quello che hai detto sì, è quello che hai detto sì, una volta una volta sì quindi quindi avvicinare perché me e anche Emma per alcuni anni hanno usato questa espressione che quello che stiamo guardando nella nostra film è una crisi della percezione quindi se hai da farlo con questa definizione io e Emma abbiamo cercato dopo il tempo nella nostra attività una espressione la crisi la crisi della percezione sì, penso che sia proprio così cioè penso che che abbiamo bisogno di una percezione di una trasformazione della percezione e quindi di un passaggio di una crisi di un momento di trasformazione cioè di rendere la percezione da qualcosa di cristallizzato qualcosa di fluido cioè avremo bisogno di una nuova fluidificazione della percezione cosa ci può aiutare? ma secondo me ci può aiutare molto per esempio l'osservazione della natura e un'osservazione prolungata un'osservazione paziente il non cercare il cercare più la traccia dell'animale che l'animale di sé di ascoltare i rumori della natura i suoni della natura senza voler cercarne necessariamente l'origine ma come se fosse un corale che proviene da tutta la natura e allora la nostra percezione non sarà più una percezione particolata della natura ma sarà una percezione globale della natura e credo che soltanto i registi che sono anche musicisti sappiano fare questo lavoro sul sonoro abbiano questo concetto del sonoro che diventa una percezione e io sto cioè parlando di percezione a me venivano in mente quei versi famosi di William Blake e e non a caso ci ha fatto un film a Jim Jarmusch che non so non l'abbiamo parlato con con Mettler però a me sembra uno dei registi che pur in generi completamente diversi è uno dei registi con cui ha più sintonia più vicinanza e il film è Deadman il film è Deadman in questo devo dire che magari può sembrare strano ma mi ha ricordato tantissimo certi film non è un film il film è un'interdizione che è uno dei grandi ci si trattano con la funzione è un'interdizione che si tratta di questo film in una molto attrazione in un modo in una forma perché non è succedente ti senti direttamente in un tipo di animale e come tu hai detto ti Gosordi e non come autori, non influenziamo la situazione molto. Siamo solo lasciando queste due mucze vantare e prendere una pia, e credo che questo rende il tono anche per il resto del film. Sì, il tempo è un elemento fondamentale, e noi possiamo giocare con questa sospensione. Il film inizia proprio in modo piuttosto aggressivo, perché non succede niente. È il tempo dell'animale, e noi ci limitiamo ad osservarlo. Gli autori, i direttori, fanno poco o niente. Di fatto si limitano a riprendere questi due animali, che si limitano a brucare, a fare pipì, e noi stiamo lì ad osservare. E questa è un po' la cifra dell'intero film. I mean, I think something you were saying made me think of the notion of empathy also, going back to crisis of perception. And I like how David talks about reciprocity. You know, that when you look at the tree, the tree is looking at you. You know, whether you interpret that to be directly literal or as he describes it, there is a truth in the reciprocity of what's happening there. and I like to call it empathy. You know, that's a good way to look at things. One of the ingredients to look and understand how you're a part of what you're looking at. Sì, quello che hai detto mi ha fatto pensare anche il concetto di empatia, collegato alla crisi della percezione. Io apprezzo molto le parole di David quando parla della reciprocità, del fatto che quando noi guardiamo, tocchiamo un albero, lui ci guarda e si tocca a sua volta. Ora che noi interpretiamo queste parole in modo letterale o meno, c'è comunque del vero in questa reciprocità, e io la definisco l'empatia. Ed è un buon modo, secondo me, di osservare e comprendere quello che si circonda. C'è tempo per una domanda semplicissima. In realtà è per tutti e due rispetto alla crisi della percezione. Il fatto che noi, da una parte sia necessario per lui che fa i film, avere la tecnologia per mostrarci poi la natura, ma il fatto che noi non vediamo la tecnologia, che c'è invisibile, è un problema in questa cosa della crisi della percezione. Ah, I don't see the machine. I see the film, I see the nature through your machine, but I don't see the machine. No, because you are good the director, I don't see the machine. But you saw us filming, yeah? Yeah, but in a way I don't see this. I don't feel the machine. I feel the nature through the machine. Ok. So maybe in the crisis of perception this could be a question or not? Well, I think it is. I mean, I like to include the act of making the film in the film. That you see somehow some self-reference to the object that is the film being made. So if you look at my other films, you know, right at a climax point of a passage in a film, suddenly you see me cleaning the lens. And I imagine I'm on the other side of the screen cleaning the lens, even though you're being transported somewhere, this is a technology that's taking you there. In reality, I try to include the technology. I'm referring to the fact that we're really doing this film. And what happens in this film, but also in others? And it happens, for example, in the crucial moment of the film, that I appear to clean the machine. So this is a reference to the fact that I'm the app above the screen. You are here, in the cinema. And you can see it being cleaned the lens, cleaned the screen. And then you, certainly, you are transported in what I take, but you are still in the cinema. Yes, and I'm also of course in this. In the sense that, in the sense, the technology emphasizes some things, some perceptions are reflected, and then they are also transformed. But the technology is not a power-reference. The technology is a virus. So it's not a probiotic, it's not a yogurt, it's not a function gastrointestinal. It's a virus that enters within you and changes the performance. So it's not a technology that does not enhance the perception. It changes the perception. It changes some things, it changes some things, it changes some things. nella loro esperienza mentre facevano il film hanno avuto un'esperienza olfattiva che a noi è completamente preclusa hanno avuto un'esperienza tattile non solo quando toccavano l'albero ma anche il vento quando li toccava quando passava sui loro corpi è una percezione che noi non avremo la stessa percezione acustica sarà completamente differente ma direi anche quella gustativa perché noi siamo in mezzo alla natura anche se non mangiamo niente ugualmente gustiamo le nostre papille gustative sono attive e recepiscono molecole chimiche che arrivano attraverso il nostro respiro attraverso la bocca quindi tutto questo noi non lo abbiamo quindi è chiaro che qualunque tecnologia non è assolutamente non può essere un'altra o trasparente è un'altra cosa sì, io credo ma è anche ma è anche che puoi creare con solo un'immagine e sound in una sala queste profonde esperienze in una persona perché ovviamente in il reale mondo e anche se si è filmato ti sono fatta 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 ma comunque quando ti mostri un film in una sala c'è un fenomeno incredibile che succede in cui un avviso è trasportato in un tipo di esperienza che è ancora profonda è interessante è ancora qualcuno che vuole forse non bisogna forse sì sono d'accordo è anche affascinante il fatto che però semplicemente con le immagini con i suoni possiamo produrre delle esperienze profonde nello spettatore quando noi siamo nel mondo quando noi dirigiamo possiamo essere esausti possiamo avere fame tutti questi problemi tutte le cose di cui ha parlato il signor Marchesini ma nel cinema avviene un fenomeno incredibile lo spettatore può venire trasportato in queste esperienze profonde semplicemente con l'audio e il visuale mi interessava all'inizio Marchesini ha parlato di una dimensione che potremmo definire politica di questi temi che stiamo affrontando mi interessa per sapere se Mettler facendo questi film si inserisce anche in un discorso politico o l'interesse magari di cambiare le cose di cambiare le cose no, assolutamente quando parlo di crisi della percezione è una questione politica sì, certo e I have made other films that are directly overtly around an issue like the Alberta tar sands in Canada oil production but that's rare I'm more interested in the way that we see about perception itself and how that relates to the reasons we do the things we do sì ci sono stati dei film che affrontavano direttamente un tema ad esempio il tema in Canada dell'estrazione del petrolio ma questo è raro nella mia filmografia tendenzialmente sono più interessato al modo in cui osserviamo in modo in cui percepiamo e al modo in cui interagiamo una domanda le riprese aeree oggi costano poco grazie dei croni lei è invitata prima a rosarne penso che siano piuttosto arroganti forse è una domanda anche per il periodo che sia arrogante rispetto a uso di il re a basso volto e comporta uno sguardo che in genere l'estero umano è profuso con la musulità interito la domanda cosa pensa dell'abuso dell'uso di croni per fare il primere il film è diventato un dispositivo cinematic e è un po' annoi lo ritornare dell'ambito l'amore il l'el il l'ambito qui l'onina è perché non non siamo l'anima il titolo del film è è l'aerial perspectiva di l'alberto tar sands e è un po' di game con la parola perspectiva perché una cosa è vera, quando si è iniziato in l'air, si comprende certi relazioni di cose che sono in grado. Quindi è un po' di valutazione, e questo film anche fa riferimento a i primi ballonisti e prima di usare gli imparati, gli imparati, gli imparati, gli imparati, gli imparati e gli imparati, gli imparati, gli imparati, gli imparati, gli imparati, gli imparati, le imparati, e hanno un po' di risultato, questo rapporto, questa relazione, il loro piacere, quindi è un trendo di trattamento per i vieni, and I want to shoot them when I see them, but there is something about the perspective that it gives that I think is valuable. Sorry, that's fine. Sì, beh, io devo ammettere che è uno strumento fastidioso, però ho fatto un film interamente con una prospettiva dall'alto. Si trattava di Petropolis, il film a cui ho accennato prima, in cui abbiamo dovuto riprendere dall'alto perché non c'era concesso fare riprese sul terreno. E anche il titolo parla di prospettive aeree ed è un gioco sulla parola prospettiva perché abbiamo una prospettiva quando siamo a livello del terreno, ma in area si capisce una relazione diversa tra le cose sul sottosuolo e sul suolo. E quindi io credo che sia uno strumento valido. Nel film parliamo anche dei primi viaggi nel pallone. Ora, prima che gli animali salissero sui palloni aerostatici si mettevano i polli, gli animali, e poi l'uomo finalmente salì e potrei godere di una prospettiva completamente diversa, una nuova relazione con la terra, con quello che c'è sulla terra. Ora, certo, è vero, si tratta di una moda, quella della ripresa con i droni, io vorrei sparare a tutti i droni che vedo, però ci trovo che ci sia un valore nella prospettiva aerea. Sì, questo film Petroppo le spazzo è domani in San Pietro all'Altisone alle 18, è un mediometraggio dura circa 45 minuti e davvero apre una prospettiva diversa la visione aerea. Non è un film con i droni, è un film dei bisogni di helicopter. Sì, volevo appunto, adesso chiudiamo purtroppo, mi spiace tantissimo, davvero non è retorica interrompere l'incontro, ma c'è un'altra proiezione, e volevo chiedere appunto a Martesini una riflessione o una conclusione, e poi invece chiedo a Peter Mettler di restare così, saluta gli ispettatori del prossimo film, visto che poi non faremo più un day finale. Sì, secondo me uno degli aspetti che lega al film e lega anche a quest'ultima domanda, e non è tanto il problema dei droni, quanto secondo me esiste un rapporto stretto tra i fenomeni e l'epifania, cioè noi vogliamo cogliere troppo i fenomeni, noi vogliamo imparronirci dei fenomeni, e quindi non siamo più in grado di aspettare, di attendere, di aprire le nostre soglie e perdiamo quella sospensione, quindi secondo me il punto fondamentale è questa nostra mania di staccare gli eventi dal mondo, e quindi di utilizzare tutte le tecnologie per poterle staccare, quando invece ovviamente il grande aspetto ispirativo e la grande relazione col mondo della natura si parte su un'epifania, non su un staccare i fenomeni, cioè sulla capacità dei fenomeni di direci qualcosa che va oltre il fenomeno stesso. Per questo è necessario lasciare che il tempo faccia il suo corso, aspettare, per questo ho detto è meglio cogliere le tracce dell'animale piuttosto che dell'animale stesso, perché oggi abbiamo assolutamente bisogno di avere una maggiore capacità di fare silenzio. questa nostra mania di cogliere tutto, di prendere tutto ci sta facendo diventare estremamente rumolosi, e quindi un'educazione al silenzio, un'educazione alla sospensione, secondo me sta dentro questa crisi della percezione. E' una delle mie parole preferite, epifania vorrei che la definisse. Quando prima ho detto il volo degli uccelli è qualcosa di meraviglioso, qualcosa di esteticamente bello, o comunque anche sublime se vogliamo, cioè qualcosa che ci riempie dentro, però finché rimane un fenomeno, è qualcosa di distaccato da noi, è disgiunto da noi. L'idea che l'uomo abbia imparato dagli uccelli a volare, presuppone che l'uomo volesse già volare, è che si è andato a osservare gli uccelli e ha detto, ah ecco, si fa così. Cioè che gli uccelli gli hanno semplicemente detto come fare. Dal mio punto di vista questo non coglie. Nel momento in cui un uomo osserva il volo degli uccelli ed è in grado di compiere quel processo di sospensione e quindi di non voler subito cogliere il fenomeno, ma di stare dentro al fenomeno, in quel preciso momento il volo degli uccelli gli dice un cosa, non più un come. Cioè gli apri una dimensione esistenziale possibile. Quindi il volo degli uccelli diventa un'annunciazione, una rivelazione. Non è solo un qualcosa da osservare, ma è qualcosa da accogliere. Ecco questa è l'epifania. Epifano, sopra il fenomeno. Io ringrazio veramente di cuore Roberto Marchesini e Peter Metler. è stata una serata davvero bellissima, molto stimolante. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.